Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono MotorTondi Allora ragazzi, oggi ritorniamo con l'Aprilia Under23 Detto Califune, l'avete già visto, io ho fatto una premiere Allora, oggi lo vedremo in moto, non che corro, lo aspetto di avere l'altra telecamera Comunque lo sentiremo in moto, allora come ho già detto, non ha un bellissimo sangue Difatti non è molto bello, comunque meglio di niente Allora, innanzitutto un video dedicato a Nicomoto Vlog, dato che è stato lui ad aggiustarlo E niente, ho un piccolo provare al carburatore, cioè che padeva benzina ed era da pulire Perché non l'avevo mai pulito E adesso funziona e si corre molto bene Fa anche meno fumo giustamente perché ha pulito tutto E niente, faccio sentire in moto Ecco come servì per un momento dove iniziamo Però ci si accontenta Il fatto che ha un esattuto sogno Il sogno circunale di niente, comunque non lo so Ma anche nemmeno fumo E' un bene anche bello Ma è tutta una vasilietta che tra l'altro l'altro Ecco qua, vedete il motore Franco Morini Con candela passo lungo cambiata Quindi anche la candela migliore e il carburatore pulito Ecco niente, ci torniamo a fare questo breve video E dopo quando imparerò bene a usarlo Perché adesso sto imparando E quando avrò la telecamera migliore sicuramente vi farò anche un video Vi faccio vedere che corro Bene E ringrazio Nico Motavlog che è venuto qua a mettere la posta E niente Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel piaccio Ci vediamo al prossimo video, ciao Ciao